Ciao, sono Cristina di Milano, ho iniziato questo percorso con Patrizia perché è una persona con cui sono entrata subito in connessione e questo corso ha sicuramente aiutato me a sviluppare il mio intuito femminile, il mio stesso senso e a canalizzare in maniera neutra i messaggi che mi arrivano senza giudizio e penso che oggigiorno questa informazione sia fondamentale perché il giudizio è sempre sulla bocca di tutti e anche etichettare o dare l'opinione su quello che arriva è sempre fuorviante per chi lo riceve e in questo modo si impara veramente a trasmettere quello che arriva come informazione senza alcuna aggiunta, alcun contorno è un'informazione pura, neutra, canalizzata e a disposizione solo di quello che o colei che riceve e quindi non solo mi è utile per i trattamenti che faccio abitualmente con le mie ciotole tibetane ma è utile per la vita di tutti i giorni per cui penso che sicuramente sarebbe utile a chiunque nella vita sentirsi supportato da messaggi che arrivano e che spesso non siamo in grado di ascoltare e trasferire a noi stessi e agli altri. Grazie Patrizia